E' fastidito relativamente, direi che le immagini hanno confermato un episodio che non esiste, poi diciamo che in Italia ci piace un po' fare un po' di commedia e quindi direi che questa settimana è stata una commedia lunga, però diciamo che è l'unico campionato che è ancora aperto perché non è ancora chiuso e Napoli ha possibilità matematiche di poter vincere Scudetto e noi fino a che non abbiamo la matematica certezza Non dobbiamo mollare una virgola e quando si arriva in fondo al campionato ci sono sempre delle sorprese, la Champions è ancora aperta, la lotta a salvezza è ancora aperta, l'Europa League è ancora aperta